Le cosche della provincia di Crotone erano pronte a scatenare una nuova guerra di mafia per assicurarsi il controllo del territorio. E' quanto ha accertato la polizia al termine di un'inchiesta coordinata alla DDA di Cadanzaro che ha portato all'arresto di diversi esponenti di spicco delle famiglie dell'andrangheta crotonese. Le misure sono scattate nei confronti di vari esponenti delle cosche di Isola Capurizzuto, Crotone e Petiglia Policastro accusati a vario titolo di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsione, tentata rapina, incendio, porto e detenzione illegale di armi e munizioni. Dalle indagini è emerso che le cosche avevano già pianificato alcuni omicidi. Gli arresti sono stati eseguiti dagli uomini della squadra mobile di Crotone e del servizio centrale operativo con il supporto delle squadre mobili di Cadanzaro, Taranto, Mantova e dei reparti prevenzioni crimine di Cosenza, Vibo Valencia e Siderno. La squadra mobile di Crotone è andata un minuto dopo Gionni, un minuto dopo gli arresti della grande operazione Gionni e ha dimostrato come le cosche si stavano riorganizzando. Infatti abbiamo documentato 5-6 riti di affiliazione, abbiamo documentato come dopo che è finita quella manna che era il cara di Isolo Caporizzuto dovevano incassare comunque, dovevano comunque fare soldi e allora hanno incominciato con le estorsioni, allora hanno incominciato con il racket delle slot machine. In passato, dopo l'operazione Gionni, si è detto che la procura di Cadanzaro vuole criminalizzare la Calabria, il distretto di Cadanzaro, in particolare l'isola Caporizzuto. Questa è una cosa che la procura di Cadanzaro respinge fermamente perché nessuno meglio di noi calabresi può capire e può sentire quanto amiamo la Calabria, quanto amiamo questo territorio e noi siamo la prova vivente, concreta, coerente dell'amore che abbiamo per questa terra. Proprio per questo siamo rimasti qui perché vi ho detto cento volte che io potevo andare tranquillamente in qualsiasi città d'Italia, tranquilla. Sono rimasto su questo territorio, sono rimasto in Calabria rinunciando a incarichi molto allettanti per l'amore che occupe questa terra e proprio perché amo questa terra, proprio perché amo l'isola Caporizzuto siamo andati lì con i migliori investigatori per pulire quella terra, per dare speranza, per dare libertà alle migliaia di persone per bene pulite che ci sono in questo distretto e che non vedono loro a che noi puliamo quei territori per nuovamente riprendere a respirare.